Oggi vedremo la prima parte dell'architettura dei romani e come i romani intendevano proprio il loro senso del costruire e anche in generale tutta l'arte e in particolare, come ho detto già a lezione, per i romani l'architettura, ma tutta l'arte in generale era qualcosa che doveva essere funzionale ed utile alla società, cioè serviva tendenzialmente per il governo del territorio quindi mentre con i greci c'era proprio una ricerca dell'estetica, delle proporzioni perfette, della forma e via dicendo per i romani questa ricerca è più incentrata invece proprio alla praticità e all'uso che si deve fare sia degli edifici che di tutta la decorazione e successivamente possiamo anche dire che col fatto che poi Roma comincia a espandersi e diventare un vasto impero l'arte diventa una sorta di trionfo o trofeo di guerra, ma lo vedremo in seguito chiaramente l'arte romana, l'architettura e tutto ciò che realizzano i romani parte con il 753 a.C., anno in cui la leggenda narra che venga fondata Roma e si suddivide in tre periodi il primo è quello dell'età reggia quando i cosiddetti sette reti Roma, quindi Roma si espande nel territorio italico poi successivamente con l'inizio della Repubblica nel 509 abbiamo l'espansione anche nell'area del Mediterraneo, della Spagna, della Gallia con Giulio Cesare del Medio Oriente, l'Egitto, Cleopatra e questo è il periodo insomma e anche la Grecia nel 146 a.C. con il declino poi di Cesare nel 27 a.C. inizia l'impero che durerà fino al 476 nel 395, quindi un centinaio d'anni prima ci sono le invasioni barbariche in Italia l'impero romano è invaso dai barbari e quindi viene diviso in due imperi l'impero romano d'Oriente con capitale Bisanzio che durerà fino al 1453 quando Costantinopoli, l'attuale Istanbul viene appunto cade e viene occupata dai Saraceni, dai Turchi e invece l'impero romano d'Occidente con capitale Ravenna che crolla definitivamente nel 476 d.C. qui in particolare nella prima parte insomma vedremo come l'architettura romana è concepita e in che modo, che significa quando un'architettura è funzionale al governo del territorio allo sviluppo del territorio e soprattutto quando deve essere pratica ecco, perché i romani diciamo non badavano troppo a fronzio li erano molto pratici in questo senso allora, una delle prime cose che i romani realizzavano e tenevano a realizzare erano i collegamenti stradali con specialmente zone del territorio conquistato strategiche vuoi per un motivo, vuoi per un altro e quindi una delle cose che realizzavano erano appunto una fitta rete di strade poi è categorizzata a seconda dell'importanza queste erano le strade consolari cioè quelle principali che portavano alla città poi chiaramente c'erano strade secondarie, terziarie e via di torrendo e la costruzione delle strade avveniva tramite la realizzazione di un grande tracciato un solco profondo che realizzavano i romani e che cominciavano a riempire con pietre di diverse dimensioni quelle alla base, proprio diciamo le prime pietre erano grandi pietre non tanto lavorate poi man mano che salivano di livello le pietre diventavano sempre più piccole e più fini, più lavorate in maniera tale da creare un battuto diciamo piano, omogeneo sul quale puoi estendere un lastricato di pietra levigata che serviva appunto da pavimentazione esterna e le strade romane sono tutt'oggi ancora praticate questa è la più antica e possiamo camminarci sopra altra cosa che realizzano i romani sono i ponti perché chiaramente le strade devono attraversare anche i corsi d'acqua con l'utilizzo delle tecniche costruttive romane che vedremo a breve ma soprattutto dell'arco che riprendono dagli etruschi i romani erano in grado di attraversare corsi d'acqua questa è una cosa che i greci per esempio non fanno fanno raramente e tendono a non fare i romani invece tagliano direttamente i corsi d'acqua li attraversano perché è più comodo qui in particolare vedete Ponte Emilio che è uno dei primi ponti se non il primo ponte romano realizzato che purtroppo oggi è detto Ponte Rotto perché nell'Ottocento è crollato e Ponte Sant'Angelo realizzato nel 134 a.C. quindi considerate che ha 2000 anni questo ponte che sta ancora in piedi realizzato dall'imperatore Adriano per collegare la città al suo mausoleo mausoleo di Adriano che oggi è Castel Sant'Angelo come era impostata la città di Roma? o come i romani impostavano le proprie città? allora chiaramente Roma è nata su sette colli nel senso che c'erano inizialmente sette villaggi che poi si unirono anche per motivi difensivi e quindi diciamo che la città di Roma ha avuto poi uno sviluppo urbanistico piuttosto diffuso sul territorio ma anche abbastanza disomogeneo qui in particolare vediamo il Colosseo vediamo la zona dei Fori qui c'è la Domus Aurea questo è il Circo Massimo qui c'è un acquedotto che arrivava a Roma Isola Tiberina insomma era una città densamente popolata era la metropoli più grande del mondo durante il periodo imperiale con ben un milione di abitanti per il resto i romani realizzavano le loro città basandosi sugli accampamenti militari che costruivano l'accampamento militare romano scusatemi era basato su due strade principali quella verticale chiamata Cardo e quella orizzontale chiamata Tecumano al centro del quale c'era la tenda l'accampamento del comandante tutto intorno c'erano le varie tende dei vari legionari romani quando i romani costruiscono le città utilizzano la stessa tecnica quindi un Cardo verticale un decumano orizzontale il Foro questa in particolare è la pianta della città di Aosta antica Augusta Pretoria il Foro tutto intorno agli isolati dove si aprivano o le insule che erano una serie di condomini o le Domus che erano le case dei patrizi poi in altre zone della città costruivano solitamente il teatro e l'anfiteatro perché i romani amavano il gioco quindi andare a vedere i giochi ed erano utilizzati anche in funzione politica questi edifici quindi i giochi e soprattutto gli spettacoli teatrali e vedremo anche la differenza col teatro greco questa è un'immagine dei Fori Imperiali ve la metto semplicemente per farvi capire poi l'estensione e l'importanza che avevano questi edifici e quanti erano complessi solitamente o culminavano come il Foro di Traiano con la Basilica che è uno degli edifici più importanti lo vedremo dopo in un'altra lezione o con un tempio in questo caso per esempio il Foro di Augusto culmina con il Tempio di Marte-Uttore cioè era dedicato a Marte proprio perché gli aveva permesso di vincere il Foro di Cesare culminava con il Tempio di Venere-Genitrice il Foro di Nerva per esempio con quello di Minerva torniamo alle insule e alle domus cioè le abitazioni dei Romani come vivivano i Romani? i patrizi abitavano nelle domus le domus erano senza finestre verso l'esterno quindi erano chiuse all'esterno e aperte verso l'interno si accedeva qui con un ingresso nella parte bassa c'erano varie botteghe diciamo quindi esercizi anche commerciali si accedeva attraverso un vestibolo e si arrivava in un autrio nell'atrio ci si trovava di fronte a una grande vasca che raccoglieva l'acqua piovana tant'è vero che il tetto veniva chiamato compluvium cioè serviva proprio a far confluire l'acqua piovana verso l'interno e a cadere in questo impluvium che era appunto la vasca dell'acqua qui trovavano diciamo di accesso poi al cosiddetto peristilio che era un cortile porticato il passaggio la zona di passaggio era il tablinio cioè la sala di rappresentanza e fondamentalmente da qui si accedeva appunto a questa zona porticata che era decorata con statue colonne giochi d'acqua poi a seconda della potenza e del potere economico anche della famiglia le ville le domus erano più articolate avevano spazi più grandi e via dicendo attorno all'atrio abbiamo i cubicola quindi le zone le camere da letto mentre attorno al peristilio ci sono la cucina che era lo spazio appunto destinato alla preparazione dei cibi i vari magazzini e c'era soprattutto il triclinio che era la zona dove si banchettava dove i patrizi romani sdraiati su delle lettighe consumavano il cibo mentre per tutti gli altri che non erano patrizi esistevano le insule le insule erano come i nostri condomini palazzi affollatissimi poco salubri chiassosi con i bagni in comune perché non esisteva il sistema il sistema fognario era diciamo un lusso che avevano creato i romani con la cloaca maxima però il bagno era comune e quindi era condiviso in generale poiché i romani non possedevano casa ma vivevano in affitto i costruttori utilizzavano anche materiali piuttosto scadenti per costruirle quindi erano frequenti trolli incendi ma anche epidemie se qualcuno di voi a Netflix su Netflix c'era una serie chiamata Subburra e Subburra era una delle insule famose uno dei quartieri di Roma Antica abbastanza malfamato e noto che tutt'oggi diciamo si trova nella zona vicino al Colosseo Celio ok Colleoppio più o meno quella è la zona vediamo e poi terminiamo la parte delle tecniche costruttive ciò che rende grande l'architettura e l'arte romana è chiaramente il sistema costruttivo cioè quello che abbiamo visto finora non poteva essere fatto soprattutto gli acquedotti se i romani non avessero sviluppato un'importante tecnica costruttiva che fanno i romani cosa inventano inventano una tipologia costruttiva chiamata opus cementitium cioè muratura a sacco all'interno della quale colavano un misto di praticamente calce sabbia e acqua ok miscolata insieme a delle pietre e mattoni di risulta cioè pietre rotte mattoni rotti e via discorrendo e cosa creano creano una sorta di malta cementizia una sorta di legante cementizio più o meno come il cemento il cacciostruzzo che utilizziamo noi contemporanei oggi che permette di realizzare queste murature molto solide molto resistenti ma anche molto leggere ma soprattutto modellabili tant'è vero che il senso principale dell'architettura romana non è la linea retta ma è la curva i romani amavano costruire pareti curve murature curve poi in base a come loro rivestivano questa muratura a sacco acquisiva diversi nomi e avremo l'opus incertum quando i romani utilizzano pietre che tra loro sono diverse una dall'altra l'opus reticolatum quando le pietre invece sono regolari e disposte diciamo secondo uno schema romboidale ok? le vediamo qui queste sono delle pietre messe e disposte come fossero tutti i rombi ok? solitamente in tufo poi abbiamo l'opus lateritium la c e la i sono z si leggono z in latino che è composto praticamente da mattoni ok? gli stessi mattoni che utilizzavano i popoli della mesopotamia che venivano solitamente poi rivestiti in laterizio scusate in travertino perdonatemi oppure marmo anche pietre locali e poi utilizzavano anche l'opus mixtum cioè confinali che alternavano il mattone quindi il laterizio a dei blocchi di pietra con queste tecniche costruttive i romani hanno potuto realizzare importanti opere architettoniche insieme a cosa? e all'utilizzo dell'arco e qui ci fermiamo l'utilizzo dell'arco mutuato dagli etruschi fondamentalmente veniva utilizzato o a tutto sesto quindi come quello che vedete in figura oppure ribassato cioè leggermente più basso veniva utilizzata una cassa forma ok? che era fondamentalmente una struttura in legno che serviva a dare la forma dell'arco e poi venivano disposti i vari conci ok? l'ultimo che veniva posto in opera era quello di chiave in alcune classi l'ho spiegato il funzionamento cioè il peso dei blocchi ok? scarica sui cosiddetti pietritti successivamente nelle prossime lezioni riprenderemo da qua e vedremo come i romani hanno risolto questo sistema per non far crollare gli archi ok? nel frattempo vi auguro buono studio buona visione e ci vediamo in classe grazie 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 grazie